Me la ricorderò questa strada per molto tempo. Massimo Pascale, dopo l'impresa dello scorso luglio da Arezzo al Monte Bianco in 72 ore, si è appena classificato 39esimo a livello mondiale nella disciplina dell'Everesting, un'attività nata in Australia in cui i ciclisti salgono e scendono più volte da una stessa collina per arrivare a percorrere 8.848 metri, l'altezza dell'Everest appunto, senza mai dormire, fermandosi solo per le soste fisiologiche. Massimo Aretino ha scelto la salita della Valle di Castelluccio nel comune di Subbiano e la percorsa per ben 197 volte, raddoppiando però l'Everesting e raggiungendo così il doppio dell'altezza dell'Everest. In tutto 17.730 metri, percorsi in 47 ore di pedalate non stop, senza mai dormire. In Italia sono 451 i ciclisti che si sono cimentati in questa disciplina, per il doppio però ce ne sono soltanto tre. Uno di loro è proprio l'Aretino Massimo Pascale che ci dice con soddisfazione di aver ricevuto dall'Australia la certificazione della sua impresa sportiva, che lo colloca al 39esimo posto in tutto il mondo tre ciclisti ad aver raggiunto questo obiettivo.